Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Yeee Oggi stiamo facendo Gravity e c'è un Amel Call che non conosciamo Che sta saltando con noi, non so perché, ok Così a random Perché chi non salta in compagnia è un ladro, una spia Ecco appunto, andiamo a giocare Gravity, va Gravity Let's go Eccolo, eccolo, allora Apriti, apriti, oddio, che ma fai questa? Non la conosco Che cacchio ne so, io vedo solamente dei cespugli Io sono la pippa a questo gioco Chi di voi ci mi ha visto nella Zetropper, saprò che sono pippa Ecco Ah, le proga Evviva la Zetropper Oh, sto trattando Cosa che vi dico, però Buttatevi voi per prima, così io poi vi vedo bene la mappa Ah, è strontano Vedete la vittima la mappa, dritto per dritto qua Con bubo al buco Ah, lo vedete qui, è leggero Ok, proviamo Mi fido te idan, eh Mi fido te idan, eh Mi fido te idan, vaffanculo, sto fatta No, be un pilu Merdaccia Aia No, c'è troppo Sì, come cazzo fai a passarla Io c'ero passato prima, ho perso all'ultimo in pratica Mannaggia, la miseria Carcazzuzza, un'altra volta Alla Un poco Oh, poi ce l'ho quasi fa Nooo L'ho fatto E vabbè Oh, è Morduk primo Palle Morduk C'ha solo culo Eh, Morduk c'ha sempre culo Io sono già sette morti Secondo livello Ce l'ho fatta Oddio Odiavolo Questi sono orologi Lì ce l'ho fatta pure io Che vado a fare Ce l'ho fatta E devi andare nel portale Vai nel portale C'è un portale No, sono andato a finire Nel tuo orologio Fiburio, lo sai Che cavolo è il secondo Oddio Oddio Qualche mappa della The Dropper originale C'è quella lì Degli alberi con l'acqua Quella lì che tu morivi sempre Queenfer Oddio No, non me lo dico Fatta Già sto a morire Io l'ho oggi Io sto al quarto Ah Non riesco più a più i bug Ammazzia Oh mio L'ho fatto Fatta anche il quarto Che cavolo Mamma mia Manca un minuto e cinquanta Oh uno è già finito eh Io ho già sui orologi Nel mio senso io è il secondo Aia Oh è già finito Io so dovrei essere Oh Relaggi fatti Secondo No L'ultimo è improponibile raga Lo dico Terzo No l'ho fatto Ah questo è quello che si spugli Ho fatto pure l'ultimo raga What the fuck C'è una miseria Estorologica Il gioco finisce No Secondi È arrivato in basso Non ho appiato la fuoco Ho appiato il muletto Andiamo a vedere il che sta facendo Oh terzo finito Andiamo al quarto Oh lo vedo Vedo il dan Eccolo Andiamo al quarto Oh il dan che va al quarto E manca un minuto e dieci Oddio Una spirale No No È la nota Vai tuffati Eccolo Eccolo che stiamo seguendo il dan che si tuffa L'ha fatto Vai già L'ha fatto L'ha fatto No è Isingar L'ha fatto Isingar sta proseguendo Dai che forse riesce a riuscire Cioè mancano 50 secondi Fatto Fatto Questo in alto Verso Sinistra Più che altro E poi dopo ristringi verso destra Dove stai a fallire Ok Un quinto Chi c'è c'è il quinto Ai Ma Isingar Ce la puoi fare C'hai fatta Uo ce l'ha fatta è sì È arrivato quarto Mi manca Ilda Mi manca E qui io sto ancora gli orologi mi sto a sfracciare la sua orologi orologi no niente quindi mi devo buttare a questa parte allora in pratica diventa verso sinistra e poi verso destra quando te lanci non gliela fai mancano 6 secondi quindi gli unici che nella lista che sono arrivati siamo io e Zingar no no si prendola prendola qua perlomeno ci sono arrivato in classifica ti è io secondo ho finito volo degli orologi arri eccoci arri eccoci dai su che sorta vinco io dai che è? che è? vincere tutta la mia francesa oddio questo è quello delle stanze oddio qual è quello delle stanze? regal posto migliore è dove sto io hanno messo per il nome delle mappe tedris social vulcano wonderland e rain io non mi butto soldi aspetto e ve lanciate voi i strozzi quanti siete? appunto aspetto che fai vai buttatevi stronzzi 3 2 questi già conoscono la mappa guarda guarda io seguo loro oh no no cazzo di poco no mi sono lanciato male pure io però non sono morto lanciandomi male oddio si ce l'ho fatta no non ce l'ho fatta ma puoi mori e si ce l'ha fatta guarda poco che ce la facevo questo che è? oh che palle pure io eh si divertite morto no ma questo è difficile però oh gianne guarda quest'altro oh questo è carino ci stanno i pescetti no spedio c'è sta la palla gigante ci stanno i pescetti facci gli stracci facci gli pescetti no ho preso il pescetto dai ce l'ho fatta guarda che schifoso ahia oh vaffanculo io me ne vado no no ho capito se liscio il pescetto c'è sta la palla gigante ah no così per poco ok 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 ce l'ho fatta dai 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 che sta orta si arriva al secondo no dai no dai 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 la faccia di morto mori fatto il secondo livello eh io sto al quarto si già davvero si what the fuck non è colpa mia oddio oddio guarda questo no 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 si ce l'ho fatta primo colpo cioè hai fatto pure il quarto si sei l'ultimo no si sto al quinto porca zozza io sto a wonderland dovrebbe essere il quarto cazzo c'ho una nuvola ah ha vinto già il primo eh l'ho visto nicolas while ah non c'hai il file eh questi sarà la gente che ormai le mappe conosce le nuvole di merda davanti io c'ho cazzo ok fatto il quarto fatto il quarto si sto venendo da te devo togliere le le cazzo di cose dove stanno ciao vediamo un po' oh ho visto dove l'acqua sono per le nuvole ho perso e infatti ce la fa no ho sbagliato eh vincere che fa il primo livello si arrivo terzo ma dai se mi avete tu bastardo io qui mi ce sto un po' là ah ah che era un pezzo di vetro ho preso un angoletto di vetro io ho potuto stare qui in ferdai no ah qui sta ancora qui all'inizio dai veramente qui questo è facile no non è facile non ci riesco sbatto bisogna far fare un allenamento insieme a qui in ferd appena fatto si troppe troppo facile questo oh sei bravo dai l'ho capito lol dove sta morto che è una pippa eccolo fatto ah ci ha fatto no però sono arrivati già tutti l'ultimo ballista oh sei arrivato ultimo oh sei arrivato sesto sei arrivato ultimo dai non è giusto non si sa se sei arrivato sesto sei lo dice just finish at the sesto eh pippa allora è rimasto Hildan dove sta Hildan? sto al terzo ancora qua stai muovi te guarda guarda lo rifaccio no non è vero stavo scherzando non sono bravo non sono bravo però se sono riuscito lo stesso ma guarda tua miseria capito ci ha provato fino a ora non ci ha riuscito mancano 13 secondi mi sa che non gliela fai ma una roba paziente ma cazzo lo mettono in un portale in culonia è fatta apposta 5 4 3 2 1 non gliela fai ah 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 mi butto per vedere come ha fatto ha vinto Nicolas ma questo è facile ho fatto la prima botta senza sbattere va bene ragazzi avete visto questo mini game su Hybe MC che si chiama Gravity ragazzi se volete farlo venitelo a provare troverete il link in descrizione lasciate tanti pollicioni condividete il video iscrivetevi al canale se siete nuovi e ci vediamo alla prossima puntata ciao ragazzi Mabllo Pula Mabllo Pula grazie a tutti grazie a tutti